Di tanto in tanto, arriva qualcosa o qualcuno, con il potere di influenzare un'intera generazione. Se non addirittura il mondo intero, per sempre. Ci cambiano. Cambiano il modo in cui viviamo le cose, il modo in cui viviamo, il modo in cui ci muoviamo. Non sai mai quando arriveranno, ma li riconoscerai a prima vista. Kia Ivinai ridisegna il modo in cui ci muoviamo. Kia, movement that inspires. Ab Non. Adonatek. Icon. To sö bı�wn. �� off. Badился. Hairless. Erוך. conscious. Acade. Caisf. Di Panz ут. Grazie a tutti.